Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato veloce alle pesche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più un'ora di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono pesche tagliate a pezzetti e congelate, latte intero congelato e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le pesche ed azionare il bimbi per 15 secondi da velocità 6 a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere il latte ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7 spadolando. il gelato è pronto riporre in congelatore per almeno un'ora. gelato veloce alle pesche grazie e alla prossima ricetta . . Grazie a tutti.